Un confronto ad ampio raggio su temi come servizi sociali, povertà e disabilità, strutture sportive, scuola ma anche turismo, promozione, feste folcloriche. Questo e molto altro nel confronto tra i candidati sindaco di Gualdo Tadino, Fabio Pasquarelli, Massimiliano Presciutti, Simona Vitali, ieri sera Link, l'Infotainment di TRG. Tantissime le domande arrivate da casa via WhatsApp a cui si è provata a dare una risposta tra i temi quello del lavoro con la questione Saxa-Gualdo in primo piano. Tutti e tre i candidati hanno manifestato preoccupazione sul futuro per la mancanza di un piano industriale e posizioni chiare sulla realizzazione di un possibile biodigestore. Ma insomma ci volete dire cosa volete fare all'interno di Saxa-Gresso perché è dal 2018 che prendete impegni, che venite in città, che dite che farete delle cose e non le fate. Allora laddove c'è un piano industriale io credo che le amministrazioni comunali tutte siano disposte a trattare qualunque soluzione. Non è per esempio disponibile ad aprire un tavolo sul biodigestore? No, perché il biodigestore non è funzionale alla sopravvivenza dell'azienda. È questo che dobbiamo dire ai lavoratori perché altrimenti si rischia di creare un qui pro quo all'interno della nostra città. Noi dobbiamo essere onesti con i lavoratori perché i lavoratori devono pagare mutui, hanno famiglie da mantenere, ragazzi da mandare a scuola. Dobbiamo dire loro cosa accadrà. E dal 2018 fino ad oggi c'è stata solo ed unicamente fuffa. La mia posizione è molto simile a quello che ha detto Simona. Parliamo, perché dobbiamo parlare di un biodigestore, soltanto se è funzionale alle aziende di Gualdo, soltanto se riesce a battere i costi dell'energia, soltanto se riesce ad essere un aiuto per la produzione. Quindi non è un no secco, cioè parliamo però se... È chiaro, è finalizzato se serve per la produzione e quindi per il lavoro e quindi se è un aiuto per le aziende. Non solo Tagina, ma possono essere anche le aziende del territorio che non ci siamo scordati, il problema del gas che è andato alle stelle che ha messo in ginocchio le nostre ultime aziende rimaste. Quindi se è un modo per poter avere un aiuto economico e aumentare e mantenere in vita le nostre aziende, se ne può parlare, altrimenti no, per me c'è una chiusura totale. Anche nell'ipotesi che domattina dovesse iniziare la costruzione di un impianto, ci vorrebbero almeno tre anni abbondanti per metterlo in funzione. Nel frattempo saremmo già morti e sepolti. Nel frattempo tutti i lavoratori sono alla Caritas. Ora dobbiamo, io credo, spostare l'obiettivo su un altro piano. E allora io penso che nel prossimo incontro che si terrà al Ministero, già calendarizzato per giugno, all'imprenditore va detto che il sito di Gualdo che ha tecnologia e forza lavoro, che non ci hanno gli altri due siti laziali, e che è appetibile anche da aziende del distretto, deve essere stralciato. Il Ministero, Regione e Comune devono invitare al tavolo quelli che hanno manifestato interesse non per fare il biodigestore, ma per fare l'impianto di atomizzazione e coprire tutta la superficie di pannelli solari da agganciare alla Costituenda Comunità Energica. Ad apertura di trasmissione anche qualche indicazione sulla possibile giunta che ogni candidato nominerà se eletto a sindaco. Per quanto mi riguarda sono 16 potenziali assessori, quindi non c'è nulla di predeterminato, sono tutte persone validissime, non c'è il cosiddetto riempiticcio come si dice dalle nostre parti, sono 16 persone che hanno tutte le carte in regola per poter amministrare la città. Noi ci metteremo seduti l'11 maggio intorno al tavolo e decideremo insieme quelle che saranno le persone che saranno in giunta. Sicuramente Lisa Chiavini, che è la mia capolista, avrà un ruolo importante all'interno della giunta. Vice sindaco? Forse sì, ma non è una necessità, potrebbe essere vice sindaco, ma anche noi. Tutte le persone sono valide, come vedete Fabio Viventi sarà il vice sindaco. Oh, e quindi ce lo dice vive Dio il nome di Fabio Viventi. Perché no, perché no, ovviamente noi siamo passati per lo strumento delle primarie e quindi perché nasconderci dietro a un dito? È chiaro che abbiamo dovuto fare una lista basata anche su delle scelte di natura politica.